Qui siamo sul suo pianerotolo dalla sua vicina di casa che ha gli stessi problemi di infiltrazioni. Sì, questi stessi problemi che ha lei ce li abbiamo tutti quanti qua, tutti quattro caseggiati. Dall'88 al 94? Sì, sì. E tu sono tutte infiltrazioni che arrivano dal tetto e mi diceva che mi può far vedere che cosa succede al suo muro. Sì, in camera da letto e in bagno che se la parete è proprio aperta, così. Andiamo a vedere. Sì. Volevo dire che nel civico 90, anni fa, detto dalla stessa inquilina, che la parete del bagno si era distaccata e gli hanno dovuto mettere dei fermi per tenere la parete, perché rischiava che la parete andasse proprio di sotto. Dunque è stato un intervento proprio lampante in quel caso lì. E questo vi preoccupa molto? Ci preoccupa, sì. Non vorremmo trovarci in un contesto uguale alla signora.